La Sagra della Castagna, giunta alla diciassettesima edizione, ha registrato un notevole afflusso di visitatori che grazie al bel tempo hanno potuto godere della tradizionale ospitalità nella piazza Giardino o raccogliere i frutti dell'albero del pane nei lussureggianti boschi del paese. L'evento, nato per valorizzare una risorsa naturale del posto, ha destagionalizzato l'offerta turistica con un appetibile pacchetto inteso a promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche del comprensorio Maratea-Valle del Noce-Montesirino. Si rinnova questo affondamento che per noi è importante, non per fare solo per Tricchino ma per l'intero territorio. Allunghiamo la stagione ad ottobre come ormai avviene da molti anni. Noi dobbiamo continuare così, dobbiamo pensare di fare anche altre cose, non solo Castagne ma tutti quanti i prodotti autunnali del sottoposto. Noi quest'anno abbiamo proposto pure per la prima volta e nella prima settimana di ottobre un giardino dei Tavanti che pure è andata bene, quindi noi di Tricchino cerchiamo di portare la gente fino a tutto ottobre. La cosa importante è che con gli altri cercheremo di fare attività turistica in inverno e in primavera così cerchiamo di chiudere all'interno del sistema turistico locale che stiamo costruendo di fare delle cose buone per le nostre relazioni. Per chiudere in bellezza domenica 25 ottobre dopo una passeggiata mattutina nelle selve trecchinesi nel centro storico, fra gli stand agroalimentari il programma pomeridiano prevede un gran finale in compagnia di gruppi musicali a partire dalle ore 15. Ciao Mimmo, questa sera da parrucchiere a arrostire le castagne. Senti, quante castagne state arrostendo quest'anno? Quest'anno ancora non lo sappiamo perché c'è un'altra domenica ancora, giorno 25, quindi ancora non abbiamo fatto un calcolo preciso, quindi nemmeno dire a dire sono 20 o 30 quintali non posso dire niente di tutto questo. E senti, ma rispetto all'anno passato saranno di più o di meno, ecco questo lo possiamo dire? Bah, appunto dipende, dipende giustamente anche dal tempo e dalla flussa della gente e ringraziamo veramente la Puglia che invade la Basilicato se non che trecchina. Grazie, ciao Mupo, grazie, gentilissimo. L'appuntamento, organizzato dagli amici della castagna, si svolge sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale, regione, provincia, alzia, associazioni, alla corte del Duca Vitale e Pietrasasso Sport.